Ragazzi benvenuti nella primissima reaction su Among Us Siamo insieme a Shane Ciao E oggi vedremo un sacco di video assurdi con un sacco di cose assurde ragazzi Quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine E se lo avete visto fino alla fine dovrete scrivere nei commenti Shane Fisellino Comunque ragazzi dobbiamo arrivare a 10.000 mi piace per il prossimo video su Among Us E per favore se volete mettere il codice Shiko su Fortnite Grazie Un bacio Perché? Perché se lo fate risponderemo ai vostri messaggi Tutti i giorni Ormai lo dice Shane al posto mio Ok Shane iniziamo guardando un film su Among Us Impostore Aiuto Ah ma quindi è questo il tono di voce dei personaggi Si fanno tutti E non sanno parlare No lo uccide bro è va rovita Non posso vedere Non so neanche che cosa succede in questo video Ok c'è uno grande e uno piccolo Eh no quello lì è l'impostore lo uccide bro vedi è tutto gentile e poi lo killa Cosa? È il pet Guarda lo uccide No l'impostore No Ok ragazzi ho capito cosa sta succedendo ci sono due impostori Uno che è buono e è costretto a fare l'impostore e l'altro è cattivo Bro lo uccide E c'è quello cattivo che vuole convincere il buono a uccidere No no bro Ma io non voglio vedere Ma io non voglio vedere No No Hanno ucciso il blu No quello buono è diventato cattivo perché ha ucciso il blu No stai no Praticamente c'è l'arancione Il nero è innamorato dell'arancione E lui sta uccidendo tutti tranne lei e il suo bambino L'arancionino il pettino Prima o poi arriverà anche il suo momento bro No Lei si fida di lui bro No non ci credo Ah gli ha chiesto vieni con me E lui ha detto no E il bambino fa ti prego vieni con me Il reattore Non voglio vedere No Sta reagendo L'arancione vede che lui non può fare la task Sta scappando L'emergency meeting no Oh cavolo No Almeno non l'ho ucciso Quando lei ha capito No il bambino Non ha ucciso nessuno Ok forse è un impostore buono E quindi non buttiamolo fuori Ma No in realtà ha ucciso E l'ha inveccato No 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 L'impostore è cattivo No l'impostore è cattivo no No dai no L'ho ucciso No Lui vede le immagini Mentre l'impostore è cattivo Ucciderà Sua moglie e suo figlio Oh no Oh no Oh no Vai Portalo con te Ok Sono cose che accadono spesso su Among Us Sì Impostore versus impostore Ulca che unghie affilate Difende l'arancionina E l'arancionino pettino Vai sbattilo fuori bro Portalo fuori con te Sacrificatevi No Ma perché è così? Ma io non sono mai riuscito a prendere un tipo con la lingua Sono un caso Eh devi sbloccare l'abilità speciale lingua lunga No il bambino Il rosso Oh no 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 Ok c'è un'onda energetica di Cosa? Sangue ovunque Vai Si apre la porta Oh no Vengono risucchiati insieme Nero sacrificati No Devi sacrificarti per l'arancione e il suo bambino No Addio Ti sacrifichi per una giusta causa Bro sono triste Basta vado via Non voglio più fare le action così No bro L'arancione e il pettino stanno bene però Sì ma è morto Per sempre È rimasta la coroncina Il pettino Quindi la corona piccola No che brutto è morto È morto Che carino Ah è finito Quindi Sì È morto lui Sì Però almeno il pettino è felice Perché c'ha la coroncina del 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 È troppo triste raga Mi dispiace tantissimo Bro io non posso continuare E invece dovrai perché dobbiamo vedere altre due cose Assurde che sono successe Su Among Us Ma non tristi vero Eh spero di no Ok Shane questo video ti prometto che non sarà triste Dai vero già un bambino È un bambino felice bro Vedrai guarda guarda Con l'aereo Guarda com'è felice Senti che musica felice Mi capro già guarda No ancora il nero No Stanno giocando bro Sono felici guarda Sta sorridendo Fa proprio ridere 10 su 10 Sono pieni Sono le mamme loro Ah sono le mamme coi pettini Ah la mamma ha dovuto portare il bambino con sé Per fare le task Però il bambino piange perché non gioca più con l'altro bambino Gli manca Il pettino E la mamma lo coccola perché sono tutti felici E non succederà niente di brutto Assolutamente nulla giuro Piangono perché sono talmente felici Che si rivedranno che Oh 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 si sono ritrovati No 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 Ma sono felici bro Guarda sta giocando No però lo uccide bro Lo uccide C'è l'aereo Stai ucciso Cosa? La mamma del bianco era impostore No Ha visto sua mamma No No bro non ce la faccio Ma? Dai ma sono tutti videotristi Ma no guarda sta Ridendo per la felicità E il bianco non ha capito Che sua mamma è cattiva Le ha visto il coltello No No guarda che cattiva la mamma No torna qui I pettini si sono ritrovati No bro Il bianco E giustamente il bambino non vuole andare con sua mamma che è un'impostora E lei dice guarda che sei il mio pet Ma lui non vuole lasciare da solo il nero Che tra l'altro è assurdo perché è come nel gioco che quando muore il pet rimane vicino a quello che muore Sì Ecco la mamma si è pentita Mi sento in colpa non voglio più essere un impostore raga vi giuro Poverina Ma è bello uccidere sua mongas Ma co In realtà è vero sua mongas è bello Che succede Cosa ha fatto Ha lasciato il pettino Ma ancora pazzo Ma mi dispiace davvero tantissimo Ma che cavolo No Va a dire che lei è l'impostore Si self-reporta L'ho uccisa io Non ci credo Si è sacrificato No È felicissimo questo video giuro Dai vado via bro Ciao mamma Ma raga ma sono tristissimi Ma chi è sta roba Tutti si prendono cura del nerino E il bianchino Anche di lui E i pettini Ciao No No bro Ora il nerino ha paura di lui Ma no ma lui ha Ha scelto di stare con te Oh no No eh Non diventare cattivo bro eh Si uccide No No diventa lui l'impostore Cioè raga da questa immagine si capisce proprio che Guardate che cattivo Ha tutta l'ombra in faccia E negli anime Quando hanno tutte le cose scure in faccia Sono dei cattivi Bro basta Diventerà il cattivo Però ok ragazzi lo ometto Adesso abbiamo visto solo cose tristi E ora vedremo una cosa Un po' diversa Ossia Una cosa che tu Shane non vedrai mai Ok Shane Benvenuto in una partita In cui ci sono 99 impostori E un solo giocatore Che cosa vuol dire? Eh Steve è un giocatore E ci sono 99 Eccolo Oh mamma mia Eh giustamente lui Oh Tutti chiusi in caffetteria Ma scappa no? Intanto che ti inseguono Ma come fa a scappare? Ok Non sa dove nascondersi giustamente Sotto al letto Oh no No hai chiuso dentro Dentro alla Geniale L'ho detto anch'io Sotto al letto? No stanno distruggendo tutta la stanza Per vedere dov'è No bro che ansia questa cosa Mamma mia Ma è possibile una cosa del genere? Eh non credo Però fo Non lo so Ma? Un crewmate che è andato in una venta Sì Guardano le partite Le cose Vai vai Metti a posto il coso Metti a posto il coso Così ci vedi meglio Che cosa sta facendo? Non lo so Ha fatto saltare la luce Così gli impostori Si uccidono tra loro È un genio Vai Metti Metti il coso Tutti gli impostori si stanno ammazzando Ce n'è uno con la pizza Like se anche a voi piace la pizza raga E mi scrivete nei commenti qual è la vostra pizza preferita La mia channel è con la mozzarella di bufala E i wuster E la tua? Con le patatine Ok ma io non ho capito dov'è il nostro tipo Oddio guarda quanti Che fortuna Si è chiuso dentro Ha hackerato la nave Ha messo una cosa sopra lì Che così non riescono a fare nulla Ha tappato tutto E c'ha il suo pettino che Si lancia Cosa? Sulla terra? Cosa? Ha messo le cinture? E vanno nell'altra mappa Ma? Che figata Ha vinto Questa è decisamente una fine migliore E' super bello poi Ok ragazzi vediamo l'ultimo video Sinceramente mi stanno piacendo tantissimo Ma no Non è triste E' una partita Con 100 giocatori E tu sei l'unico impostore E' al contrario Esatto E' difficilissimo Ed è lo stesso Si chiama Steve Ciao Steve Un saluto Solo che nessuno Un sacco di minuti dopo Si ma ti beccano Come fanno a capire Eh giustamente sta insultando tutti Perché Lo beccheranno di sicuro Se lo uccide qualcuno Dato che fanno gruppi di 90.000 persone Immagina una chat vocale Con 100 persone Già E' in 5.000 fastidio Lui in teoria potrebbe uccidere tutti Che nessuno tanto riesce a leggere il suo nome Che fa? Prende la pizza Ok Gli piace proprio tanto la pizza Quelli che hanno fatto questi video Ah che tra l'altro ragazzi In descrizione Lascerò i video originali Ma Che Cavolo Cosa? Ah Ha trovato Ha trovato il modo perfetto Per ucciderli tutti Un po' di nomi Ha vinto Ma che Ma questo è un genio Ma questo Steve è un pro player Ha vinto sia da impostore sia da Ma grande Steve E con le immagini ragazzi Dei nostri due pettini Prima di Di essere tristi Quando erano ancora felici Concludiamo il video Vi ringrazio per essere arrivati Fino a questo momento del video E vi ricordo di seguirci su Instagram Sia me che a Shane Perché mettiamo Un sacco di foto bellissime Quindi seguiteci E per ora Noi non possiamo farlo E ringraziarvi Perché noi come al salto Ci becchiamo al prossimo video Shane saluta Ciao Ah È già andato via Bella Bella